molto bene, guardate la velocità ridicola con la quale sta atterrando l'uomo è una cosa che si svolge nella fronte Andiamo a sentire, è stato molto scuro! Ahahahah! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! voi voi siete due, permettetemi un'espressione che non è proprio, io siete due ragazzati, perché avete portato questo delimento, che è sordo, sette volti, sette delle vecchie volti, fantastico, ragazzi, di Elfim, aspettiamo l'apertura del bambino, due tiri? e adesso il riconoscere è duro, poi quindi quello che dico, e quello che dico, non so, l'altra cosa è griglia, grazie, dico le righezze di me, voglio dire, a me' che perché e allora dovete tutti fare tutte le robe uguali, un po' di fantasia no? No, capisco che ci potete, però in salone sta a meno a mettere...